Per piacere, per piacere. Oh, la vittoria è mia lunga. Presidente, cosa avete deciso a Palazzo Di? Permesso, permesso. Avviamo, siamo andati. Viaggia, viaggia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Un grazie di cuore a Napoli e a Napoletano. L'atto di fiducia che hanno compiuto nei miei confronti. Il consenso che mi hanno dato è il dato politico più importante di questa campagna elettorale. La città di Napoli ha dimostrato di essere una grande capitale del mondo. Completamente indifferente alle chiacchiere, alle aggressioni mediatiche, alle campagne di diffamazione. Che grande prova di maturità e di civiltà. Grazie a Napoli, veramente un grande apprende. E poi c'è un controcorrente. Cos'è un buono? Cos'è un buono? Cos'è un buono? Aiuto! Mi state schiacciando? Che dici? No, bisogna finire. Dicci la mano. Senza insediamento non c'è sospensione, ragazzi. Grazie a tutti. una battuta cosa le ha detto Renzi? Napoli come Salerno